Uno è impiegato in un ufficio contabile, uno si è da poco laureato alla facoltà di economia e commercio, l'altro invece fa gli impiegati in una vita di traslochi. Cosa può accomunare tra i soggetti differenti, conviti differenti e lavori differenti? Semplice, hanno in comune la passione per il fuzza, il sangue nero verde e sono il vero oro di bitonto. Stiamo parlando di Roberto Tarantino, Raffaele Acquacredda e Davide Schettini. Partiamo dal primo, Roberto Tarantino, in laterale classe 1996, il suo secondo anno consecutivo all'interno del roster guidato da Mr. Pietro Di Bari. E dell'aggressività, della pressione a tutto campo, della cattiveria agonistica, della tenacia in ogni contrasto, ha fatto i suoi principali punti di forza. Se a ciò poi andiamo a sommare anche le tre reti messe a segno finora e quelle propiziate dalle sue iniziative, non possiamo che definire Roberto Tarantino un valore aggiunto per questa squadra. Il secondo, invece, è Raffaele Acquacredda. Anche lì classe 1996, il centrale nero verde e una delle sorprese più piacevoli del progetto bitontino. Cresciuto nelle file del palo, in due anni al fuzza al bitonto 2019, si sta guadagnando la stima e la fiducia di tutti. Dirigente ed ordinato, dal piede pulito, dinanziassi a due maestri del mestiere come il capitano Angelo Statalino e come Dario Orlino, da cui poter crescere dal punto di vista tattico, perché da quell'umano, il ragazzo non si può assolutamente discutere per passione e serietà negli allenamenti. L'ultimo, invece, è Davide Schettini, portiere classe 1999, vede il suo punto d'inizio all'interno di questo mondo tre anni fa, quando ha difeso per un intero campionato la porta del città di Bitonto, in serie C2, mettendosi in mostra nel panorama regionale a suon di parate. Un expo, il suo, dovuto al lavoro svolto con la preparatrice dei portieri Alessa Mercurio. Lavoro, proseguito per lo scorso anno fra le fila della polisportiva 5 Bitonto, con il mister Antonio Liso, fino a giungere a questa stagione, dove il portiere Bitontino ha già collezionato quattro presenze in prima squadra e studia come diventare grande da un esperto come Marco Ritorno. A sua volta, poi, difende la porta della Juniors e fa la guida al portiere Fabio Petta. Tre ragazzi differenti, dunque, con tre ruoli differenti, ma con un unico fattore in comune, essere con fierezza l'oro per il futuro sportivo di questa città. Grazie a tutti.